E' salito in sella la sua moto Yamaha Nera intorno alle 15 di domenica e si è allontanato dalla propria abitazione di Casarsa della Delizia, senza farvi più ritorno. Proseguono le ricerche del cinquantenne Davide Businaro, attivate dai familiari dell'uomo, residente nel comune della Destra Tagliamento. La prefettura di Pordenone, che ha condiviso una fotografia di Businaro, invita chiunque abbia informazioni in merito alla sua scomparsa a contattare le forze di polizia. L'uomo risulta essersi allontanato da solo, da casa, su una moto Yamaha Nera con cromature Bordeaux, targata AA69717. In quel momento indossava pantaloni lunghi neri con tasche laterali, una maglietta nera a mezze maniche, scarpe da lavoro grigie, un casco aperto di colore nero e uno zainetto rosso. Il cinquantenne, di Carnagione Chiara, è alto 1,85-1,90 circa, ha capelli corti e occhi color marrone. Utilizza occhiali da vista con montatura nera e sul collo, sotto la nuca, ha una voglia di colore rosso. Chiunque abbia informazioni utili al suo ritrovamento è pregato dunque di contattare al più presto le forze di polizia attraverso il numero unico per l'emergenze 112. 1-2